Mi piace appunto raccontare la luce, la luce naturale, che è quella che poi in realtà colora anche gli elementi d'arredo dell'outdoor. Benvenuti a The Outdoor Voices. Oggi abbiamo con noi Paolo Metaldi, designer e illustratore. Paolo, outdoor, immaginazione e invenzione. C'è un legame. Secondo me sì, c'è un legame molto grosso perché l'outdoor secondo me ti permette di creare qualche cosa che magari l'indoor non ti permette per molti vincoli. Gli spazi per esempio nell'outdoor sono molto più grandi, sono molto più spaziosi, mentre l'interno, di solito gli interni hanno dei vincoli molto superiori, ci sono molte più restrizioni, i materiali probabilmente dell'outdoor magari sono più vincolanti per certi punti di vista perché devono rispettare delle caratteristiche ovviamente dell'esterno, però secondo me dal punto di vista, lo dico dal punto di vista di designer, la liberazione, l'immaginazione secondo me è molto più libera. Quando penso ai tuoi lavori, soprattutto l'illustrazione, vedo questi outdoor che sono punti di fuga verso l'architettura, però si legge comunque una trattazione, un trattamento delle superfici molto particolareggiato. È come se rendessi la luce naturale rispetto a quella dell'architettura che è spesso artificiale. Sono molto d'accordo, tra l'altro io disegno praticamente solo outdoor, pochissimi interni ho fatto su commissione, tra l'altro a me piace proprio disegnare l'esterno, mi piace appunto raccontare la luce, la luce naturale, che è quella che poi in realtà colora anche gli elementi d'arredo dell'outdoor, rendendoli diversi da una luce artificiale dell'indoor. La luce naturale ma anche la luce della luna, la luna è molto presente. È presentissima, non so il motivo, mi sono accorto dopo tante illustrazioni che la mettevo sempre dentro, ho dato questa spiegazione probabilmente alla mia e alla tua territorio d'origine, il Lago Maggiore, c'è sempre un riflesso unico in qualsiasi condizione e probabilmente questa cosa mi sono accorto che piano piano l'ho sempre inserita nelle mie illustrazioni. Outdoor come riflesso. Tra gli altri premi, compasso d'oro e molti riconoscimenti, cos'è quel quid che fa la differenza per te? Allora, vabbè, partendo dal compasso d'oro è stata per me un premio importante, ovviamente, anche se in realtà è più che un premio, è la certificazione del percorso giusto che stai facendo. Quindi i premi sono importanti, quello che fa la differenza per quello che mi riguarda è cercare di creare, di disegnare dei prodotti, di prodotti ce ne sono già tantissimi, è inutile ripeterci dicendo che tutto è stato disegnato, quindi cercare di avere qualcosa di differente, magari anche solo per me, ma che abbia quindi un secondo significato. Io cerco sempre di creare progetti con due significati almeno, quello estetico, ma magari anche qualcosa di più etico. Il maestro Enzo Mardi dice il progetto è metafora, stiamo a posto. Giusto. Hai parlato di nostro paesaggio, dove nasce l'invenzione? L'invenzione io credo che nasca, non ci siamo, ovviamente un territorio d'origine. Per quello che mi riguarda, quindi del nostro paesaggio, io penso che il DNA della nostra terra, del nostro, del verbano, possiamo dirlo, è il casalingo, per cui io e te siamo nati in una terra fatta di aziende come Alessi, Lagostina, Bialetti, per cui probabilmente inconsciamente dentro è tutto da lì che parte. Questa invenzione, fare una cappettiera da una lavatrice. Esattamente. Tu lavori molto partendo dall'immagine, inserendo il digitale e poi ritornando alla mano artistica. Sì. Che cosa presuppone questo passaggio? Allora, diciamo che parto appunto sempre dalle referenze di immagini, perché sono per me importanti, quindi riferimenti che siano artistici o di architetture e via dicendo. Dopodiché trasformo sempre l'immagine prima a mano in realtà, butto giù lo schizzo, in modo che ho l'idea anche di come in realtà posizionare gli alimenti all'interno del foglio bianco. Dopodiché trasformo in digitale, facendo dei passaggi anche particolari, molto particolari, perché arrivando dal design uso programmi legati al mondo del design, quindi non strettamente all'illustrazione e quindi poi cerco di poi ripulire tutto e di tornare un po' più a un'immagine un po' più minimalista rispetto magari a quella iniziale, anche a bozzata a mano. Che colore ha l'outdoor? Io penso azzurro, perché il verde è già, diciamo, quello che siamo abituati a vedere nell'esterno, mentre il cielo è in alto, quindi secondo me l'azzurro è il colore giusto per l'acqua. Grazie. Grazie a te. Grazie a te.